Tre nuovi ingressi ma nessuna sorpresa. Parte da questa mattina il lavoro del Brucchi Quater, chiudendo così l'ennesimo rimpasto di giunta. Alfonso Di Sabatino Martina sarà alla ricostruzione al bilancio, Silvio Antonini alla sicurezza urbana e al turismo, Caterina Provisiero alla pubblica istruzione. Dunque questi nomi nuovi dell'amministrazione teramana, per il resto deleghe invariate rispetto alla terza edizione della giunta. Il sindaco però distribuisce tutte le deleghe che fino ad ora aveva tenuto per sé, motivando la decisione con l'impossibilità di seguire tutte le attività, anche in ragione delle tante problematiche legate al terremoto. Non voglio sentir parlare di sprechi, ha tuonato il primo cittadino, prendendosela con chi aveva criticato la giunta a 9 e l'aumento dei costi della politica. In questi giorni si è cercato tanto di decantare i costi della politica teramana. Beh, da questo punto di vista posso, come dire, esprimere un vanto. Noi siamo quelli che costiamo di meno in assoluto, sicuramente in Abruzzo, ma io direi a livello nazionale, perché basta prendere quelle che sono le indennità dei miei pari a livello di comune e capoluogo e vedrete quello che guadagna il sindaco di Teramo, 1209 euro al mese. Basta prendere le indennità degli assessori del comune di Teramo e di un assessore di qualsiasi altro comune e capoluogo. E allora, un'attività di un sindaco o di situazione può essere criticata. Si può criticare il sindaco per come svolge la sua attività politica, per le risposte che non riesce a dare. Oggi ho anche annunciato che avremo 2 milioni e mezzo di euro grazie alle assicurazioni relativamente al sisma per poter fare attività di manutenzione e quindi daremo una risposta importante anche a questo grande problema che in questi otto anni abbiamo avuto. Però vorrei anche sottolineare che questo comune in otto anni non ha contratto un mutuo. Brucchi quindi punta deciso sul rilancio del programma di governo anche per placare i mal di pancia interni alla maggioranza che restano nonostante i rimpasti. Sbraccia e falasca hanno mostrato segni di insofferenza rispetto al nuovo assetto di giunta. Basteranno i volti nuovi l'ingresso nella squadra di governo di Di Sabatino Martina a riportare la serenità in maggioranza?